non è un po' video sta facendo no, no, è un po' diverso per vi cari e tu consigli come stai? eh sì, l'apertura bello questo l'apertura, il pavone si chiama questo no, è molto preciso no? l'Italia volata a tre a di ci stiamo a parlare di che stiamo a parlare? di che stiamo a parlare? belli gli spacchi precisi di ci stiamo a parlare? pulito pulito, tutto concentrato tutto in una stessa buona vabbiamo da tirare a due sfondi non, 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 non No Grazie a tutti. 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 Blinker. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.